Evidentemente ha funzionato l'amo della scrittura di James. Tornar è un'altra grande presenza nella nostra rubrica letteraria, lei pensa che possiate condividere altri interessi in questo senso? Io e Marco siamo amici, intanto ci conosciamo ormai da più di 25 anni, da quando io ero poco più che adolescente, lui ha qualche anno più di me, penso che l'ho conosciuto perché all'epoca avevo 16-17 anni e iniziavo a scrivere per un piccolo giornale provinciale e avevo letto Segni Naturali, la sua seconda raccolta di poesie, mi era piaciuta moltissimo, per cui fui io a mettermi in contatto con lui per chiedergli un'intervista per questo giornale, ci conoscemmo così e da allora siamo rimasti perennemente in contatto, abbiamo avuto già delle piccole collaborazioni di vario tipo e lui che è un appassionato di letteratura angloamericana, di letteratura inglese, aveva iniziato a tradurre questo Lady Barberina perché in Italia non esisteva nessuna traduzione. Un filo diretto letterario che non si è più interrotto? No, praticamente no. Lui aveva iniziato a tradurre questo Lady Barberina per suo uso e consumo perché appunto non esisteva, questa è la prima traduzione italiana di questo romanzo e essendo un neofita dell'inglese perché diciamo che lui lo ha imparato in età già adulta proprio per poter leggere delle cose di cui non si trovava la traduzione, mi chiese praticamente di rivedere, di correggere questa traduzione. Nacque l'idea visto che era un inedito in Italia e nacque l'idea appunto di farne un volume e lo abbiamo proposto a Marco Solfanelli che poi appunto ha fatto questa accoppiata anche con l'All Bindy Lady Bel Donald. Marco Solfanelli ha pensato bene di assortire questo dualismo storico e anche musicale se vogliamo, letterario soprattutto, che converge amabilmente nella traduzione di questi due lavori. Sì, io penso che James tra l'altro, Henry James sia un autore destinato a avere un ritorno diciamo di notorietà perché certe volte appunto anche autori apparentemente poco commerciali hanno dei momenti di moda e come dicevo prima James ha avuto fra gli anni 70 e la fine degli anni 80 un momento di grande fortuna di pubblico oltre che a livello letterario era già riconosciuto. Ci può essere un perché a questo successo che sta per riprendere fiato? Io credo che molte volte è proprio la presenza di materiale, la presenza di libri di titoli in cartellone e adesso tanto più con internet che determina, non voglio dire una moda, ma diciamo uno spargersi un po' macchia d'olio, un po' esponenziale della fama di un autore. C'è da dire che di James, da alcuni libri di James sono stati tratti anche dei film, ritratto di Signora per esempio di Jane Campion, brutto film secondo me, ma comunque di qualche anno fa e ci sono ancora molte cose da scandagliare di Henry James, ci sono ancora appunto dei romanzi non tradotti, non tradotti, dei racconti, questo All Bindy Lady Beldonald, lo tradussi perché lo trovai un gioiellino veramente. Un autore che ancora non si è espresso del tutto al grande pubblico, impari di capire. In un certo senso sì, in un certo senso sì, ci sono i capolavori riconosciuti come appunto il giro di vite o il carteggio Aspern, cosa sapeva Maisy etc., che continuano a avere una certa fortuna anche sia critica che con i lettori, ma molte cose invece sono così preziose e vanno ancora un po' scoperte. Senta Naglia, secondo lei che cos'è che fa presso il pubblico il successo di un autore? Difficile dirlo, è una cosa un po' imprevedibile, mi viene in mente un evento musicale di un po' di anni fa, che forse lei si ricorderà perché uscì anche sui giornali, in Spagna un gruppo di monaci di un monastero fece un disco di canto gregoriano che non si sa perché da un momento all'altro vendette decine, centinaia di migliaia di copie. Penso che ancora oggi si siano gli ecchi di questo successo a cui lei allude. Il gregoriano era stato abbondantemente inciso anche in passato ed è stato inciso anche poi, ma c'è stato un momento in cui per qualche strano o scuro motivo, ma spesso sono i mass media che fanno magari la fortuna di questi fenomeni. Per cui magari, tornando a James, il lettore o il critico che in qualche modo sponsorizza la sua lettura può provocare una specie di effetto domino che viene amplificato dai mezzi di comunicazione di massa a partire da TRSP per esempio e quindi può davvero creare, è come se fosse un passaparola amplificato. In quel momento c'era il terreno fertile, voglio dire. Sì, sì. Certe volte è la cosa giusta al momento giusto nel mezzo giusto, al mezzo nel senso di media proprio. Torniamo all'argomento iniziale. Harry James, lei si augura un successo, un revival, un ripescaggio, un successo a lei di vivo. Io penso che adesso Henry James… Lei all'orizzonte. Io sì, sono ottimista e penso che Henry James in questo momento goda di meno fortuna di quanto meriti. Se negli anni 70 e 80 è stato un fenomeno un po' anche di moda, adesso è un po' il contrario, un po' rimosso, ma in realtà è rimosso come tutti questi autori che chiedono una presenza di spirito, un impegno al lettore che vuole entrare con uno sforzo in questo mondo, sforzo di cui sarà secondo me ampiamente ricompensato, ma non è un autore facile. D'altro canto in questi giorni sto leggendo, non avevo mai letto, un autore spagnolo vivente, uno dei più importanti narratori viventi, Javier Marias, che è un autore che ha grande successo di pubblico ed è decisamente molto più complicato di tanti romanzi di Henry James. Henry James, un autore da riscoprire e per farlo meglio apprezzare in anteprima il nostro Sandro Naglia, anche traduttore, ci leggerà sicuramente qualcosa a questo punto? Allora, io sceglierei l'inizio di Lady Barberina perché mi sembra un bel esempio di come James sfidi il lettore. In genere gli inizi dei romanzi di Henry James, almeno da un certo punto della sua produzione in poi, sono un po' delle sfide, cioè se si passano le prime due pagine il resto in discesa. Qui viene descritta, semplicemente viene descritta una scena che introduce Hyde Park a Londra, che introduce due dei protagonisti della storia. È interessante questa maniera un po' cinematografica con cui Henry James parte da quello che nel cinema si chiamerebbe Campo Totale per arrivare a isolare questi due personaggi. È noto che al mondo ci sono poche vedute più splendide dei viali principali di Hyde Park in un bel pomeriggio di giugno. Era esattamente questa l'opinione di due persone che in un magnifico giorno all'inizio di quel mese, quattro anni fa, si erano sistemate sotto i grandi alberi su un paio di sedie di ferro, quelle grandi con braccioli, cosa per cui se non sbaglio si pagano due pence, e lì sedevano con la lenta processione della drive alle loro spalle, mentre i loro visi erano rivolti alla più viva agitazione della roux. Confuse nella moltitudine di osservatori, appartenevano almeno in apparenza a quella categoria di persone che ovunque si trovino si annoverano più tra gli spettatori che all'interno dello spettacolo. Erano tranquilli, semplici, attempati, di aspetto alquanto neutro. Vi sarebbero piaciuti estremamente, ma li avreste notati a malapena. Nonostante ciò, in tutta quella folla rilucente è a loro, oscuri, che dobbiamo prestare la nostra attenzione. Il lettore è pregato di aver fiducia, non gli si chiede di fare concessioni inutili. Nei volti dei nostri amici c'era qualcosa che indicava che stavano invecchiando insieme e che erano abbastanza amanti ognuno della compagnia dell'altro da non aver nulla da ridire su questo, seppure ce ne fosse stata la possibilità. Il lettore avrà capito che erano marito e moglie e forse è indovinato al contempo che erano di quella nazionalità per la quale Hyde Park a stagione avanzata è massimamente rappresentativo. Essi erano stranieri pratici del luogo, per così dire, e gente nello stesso tempo così coinvolta e così distaccata possono esserlo solo gli americani. Questa riflessione in vero si poteva farla solo con un certo ritardo, perché si deve ammettere che essi portavano pochi segni patriottici in superficie. Possedevano la disposizione mentale americana, ma questa era assai sottile e ai vostri occhi, se i vostri occhi se ne fossero curati, essi avrebbero potuto essere di discendenza inglese o perfino continentale. Era come se gli si addicesse essere scoloriti, il colore era tutto nel loro parlare. Non erano affatto naive, erano grigi piuttosto, di una tinta monotona. Se erano interessati ai cavalieri, ai cavalli, ai pedoni, alla grande esibizione inglese di ricchezza e salute, bellezza, lusso e tempo libero, era perché tutto ciò rimandava ad altre impressioni, perché avevano la chiave per quasi tutto necessitasse una risposta, perché in una parola erano in grado di fare confronti. Lei ha pronunciato una parola, Hyde Park, Hyde Park è un luogo dove si è fatta la storia di una certa cultura anglosassona, lì praticamente salendo su una sedia, tornando a fare una certa figurazione, chiunque poteva prendere parola. Tuttora credo, tuttora. È un posto di libertà. Sì, molti libri di Henry James che era nato a New York, aveva viaggiato tantissimo in Europa da giovane e poi si era stabilito in Inghilterra e negli ultimissimi anni aveva preso anche la cittadinanza inglese. Moltissimi libri di Henry James sono legati a questo scontro fra queste culture, cioè fra la vecchia Europa colta, profonda, ma un po' polverosa, un po' decadente e la giovane America vitale, superficiale. In Lady Barberina tutta la trama nasce dal fatto che mentre in genere dei gentiluomini inglesi andavano a trovarsi moglie in America, a certo punto era diventata quasi una moda, in Lady Barberina è un dottore, quindi un borghese americano che prende in moglie la figlia di un'antica famiglia nobiliare, per quanto squattrinata inglese e da questo nascono le scintille che si sviluppano poi nella trama. Non poniamo limiti alla provvidenza. La narrazione ci sta prendendo un po' la mano, soprattutto grazie all'amabilità di Sandro Naglia. Dobbiamo chiudere e lasciare la linea alle altre trasmissioni di rete. Grazie del buon gusto di averci accettato, di aver citato la vostra preferenza e vi diamo appuntamento alla prossima puntata che ci sarà puntualmente su questa rete. Vi raccomando, TRSP sceglietela. TRSP trasmette in tutta Italia su Sky 858, in tutta Europa, Medio Oriente e Nord Africa, SWOT belt e in tutto il mondo di streaming, nonché su alcuni segnali sia digitali che analogici. Mi raccomando, sintonizzate che ci siete sempre e dateci il vostro apporto. Ricordate la nostra forza, siete voi, dateci forza e complimenti auguri a Sandro Naglia. Grazie di tutto, grazie a lei. Grazie a tutti. Grazie a tutti.